e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di game, non riesco mai a dire questo nome disney getaway blast ok perfetto iniziamo facciamo solo un livello e poi vi mando alla sigla ragazzi tra un livello dovremmo abbandonare l'isola sì quindi un altro livello e possiamo andare sulla mongolfiera e dire addio all'isola questo qui è difficile tanto allora faccio così così no non fa niente mamma mia com'è difficile posso prendere quelli blu che sono utili ok ok perfetto wow esplosio perfetto ok ok facciamo esplodere qui boom wow abilità pronta usa vai aladin che bello vai usiamo il fiore qui che cos'è la bomba buona non è da mangiare buona nel senso che è utile ok ok chiavi ragazzi prima ho perso mannaggia allora questa la giochiamo meglio ok vai perfetto con questo facciamo esplodere i cocchi dai ce la possiamo fare ragazzi wow qui c'è un'altra bomba boom benone abilità pronta usa ui oh questo si che è buono mamma mia mamma mia cocchi 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 ok facciamo così così e poi così mamma mia che esplosione atomica e questa si che sarà un'esplosione atomica ragazzi preparatevi oh mamma mia incredibile wow non me l'aspettavo che faceva esplodere tutto va bene vai esplosione ragazzi abbiamo vinto ma una cosa brutta c'è dobbiamo lasciare l'isola l'isola però abbiamo sbloccato anche un nuovo personaggio ragazzi che bello eccolo un nuovo personaggio sbloccato l'ilo l'ilo rimuove le bolle dalla griglia ballando la fula ok grazie è il momento di dire addio all'isola ciao isola noi partiamo andiamo andiamo aspetta merlino vieni che bello che bello ora non è più spiaggia dei ricordi sarà un'altra cosa un posto innevato ma che bello ok ragazzi io vi lascio alla sigla bene dopo la sigla oh arriva l'ilo peleca ok accoglila bene che personaggio uso mi sa che uso proprio lei ciao l'ilo fai scoppiare le bolle farfalla con il colore corrispondente per liberare un cerca bersaglio ok grazie che carino questo coso wow mi piace ovviamente trovate il link in descrizione per installare il gioco sul play store ok vai quante belle farfalle abilità pronta usa ok ok vai oh ok vai esplosione l'uomo 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 usa sempre ok basta lo smetto bene vai vai abilità pronta usa è sempre l'abilità pronta ok ok livello completato grande ecco qui missioni ok prosegui la storia accoglila wow un intero lago ghiacciato proprio come nel mio film di mostri preferito l'attacco dello Yeti 3 Yeti sul ghiaccio non capisco perché la gente apprezzata tutto questo però però sul ghiaccio si può solo pattinare e il surf è molto meglio del pattinaggio in effetti però non ho ancora provato a pattinare potrebbe essere divertente guardate i miglietti perché lo dedico a voi prova a pattinare gioca dai dobbiamo pattinare con il genio della lampada bene ok poi faccio così poi faccio così 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 poi questo wow intanto lì esplode tutto abilità pronta usa attacco genio ok boom succede di tutto qui oggi non so parlare però non è che negli altri video vado meglio però oh livello completato che bello wow io veramente sono contentissimo di questa cosa prosegui la storia prova non ti fare male è accaduta oh il ghiaccio è durissimo schicci nani ah già arriveranno più tardi come posso divertirmi a pattinare senza rischiare di farmi male sul serio beh il ghiaccio tritato è bello soffice potrei accumulare della neve per non farmi male quando quando caldo e trovare qualcosa a cui reggermi ok andiamo ora possiamo scegliere tra questi personaggi ok scelgo il nuovo no lo dobbiamo usare è nuovo i colori del vento mostrano il percorso che faranno le bolle oh bene wii wow 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 attenzione intanto gli ho preso la chiave ok vai eh ma cosa sta succedendo abilità pronta usa balliamo vabbè ok prendiamo la palla bene oh bisogna andare di qua ye oh no ci manca un'altra palla no mannaggia ho quasi finito le mosse è la fine usa l'abilità so che ce la puoi fare con l'abilità ebbè insomma ok sono rimasto con una mossa yeah che bello ok missioni ritira prosegui storia raccogli raccogli che è successo è caduta uff sì avevo ragione pattinare in dei grossi mucchi di neve è molto più divertente che cadere su sul duro ghiaccio scommetto che è anche più divertente con gli amici stice e nani arriveranno presto ma vorrei avere qualcuno con cui giocare ora oh ma certo nani dice sempre quando sei in un luogo nuovo prova a farti nuovi amici ok quindi fai nuove amicizie ye ok andiamo qui abbiamo minnie anna io userai anna ma ok lo usiamo troppe volte minnie poi anna si offende mi prende a paccherone in faccia quindi ma io di no non questo anche blu bene abilità pronta usa oh che bello fantastico e ora vai ok sac dove vanno le palle dai non ti fermare vai vai non mi fermerò mai poi così la palla si è bloccata no lasciate andare la palla mi prego la mia amica no la fine è la fine riproviamo allora ok perfetto dai ce la posso fare gli servono qualcosi un attimo prendo prima i rossi ok niente eh ok ok zac servono ancora i rossi presto rossi rossi si ok ok abilità pronta usa ok 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 ma con 8 mosse cosa vuoi fare dai anzi non si può fare niente eh questo è un problema non si può fare niente ce la farò mai e niente ragazzi si perde sempre abbandona presto ci riprovo ma tanto sappiamo già che perdo questa volta ha fatto un bel botto eh ok vai ok questa la vinciamo dai me la sento usa bene ora vabbè prima cosa dobbiamo prendere la palla ok vai palla ti prego ok 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 mi piace ecco 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 mi rimangono due cose ma non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio no ho c'ho che fare sì ciao aspetta abilità pronta ti prego fai qualcosa di utile non posso comprare niente no raga è impossibile sto livello non si può fare ragazzi finalmente ho completato il livello ce l'ho fatta ok vi ho tagliato la parte dove facevo di nuovo tutto il livello da capo perché vedere sempre tutte le stesse cose non è divertente quindi vi ho tagliato quella parte andiamo su storie prosegui la storia conosci fai nuove amicizie dai con chi però con i pupazzi di neve dimmi di no ecco fatto ciao scramp 2 e scramp 3 vi ho chiamato così perché siete le cugine segrete della mia bambola scramp originale ora scramp 2 mi daresti un paio dei tuoi pattini migliori grazie scramp 3 potresti assicurarti che io non cada ottimo pronti arrivo ok forse scramp 3 non stava prestando attenzione scommetto che è perché le manca casa su esattamente cosa fare ragazzi ha fatto amicizia con dei pupazzi di neve ma si può ok stavolta due stelle però ciao paperino come stai caspita abilità pronta usa ok meraviglioso ok questa è una mega esplosione boom vai ok abilità pronta usa bello paperino bello mi piace paperino ok vai ah mi sa che perdiamo anche questa i livelli stanno diventando molto più difficili vero eh si mi sa di si eh livello completato che bello guardate anche paperino com'è contento eh paperino ciao ok andiamo eh qui userei lumiere lumiere usiamo lumiere lumiere ok ok vai vai boom ok poi l'abilità pronta usa sto prendendo fuoco pompieri ok 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 non posso fare niente però però posso fare così per poi fare così ok bravo grazie lumiere ok abilità pronta usa ok abilità pronta usa mi piace mi piace mi piace mi piace ok 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 si si ce l'abbiamo si ce l'abbiamo fatta livello completato guardate che faccia da pirla ma ma lumiere non ti voglio offendere però guarda la tua faccia dai dai si ce l'abbiamo fatta così è meglio sorridi sorridi come sei bello ok ok dov'è stanno lei ok decora vediamo come decori bello mi piace si così fa meglio dei surf mamma mia ragazzi per fare questa voce mi sto rompendo tutta la gola così va meglio dei surf roba da spiagge perfino le palme che Stitch ha sradicato dalla spiaggia dei ricordi è proprio come casa anche la famiglia di Scrum e delle Hawaii come me quindi questo le farà sentire molto più al loro agio sono molto sensibili non dirglielo ma vorrei che Stitch fosse qui per vedere come sono diventata brava sui pattini se facessi uno Stitch di neve potrei mostrergli la mia bravura la famiglia di Scrum non ne sarebbe gelosa sarebbe loro ma ok ma lei dovrebbe stare in una spiaggia no? sulla neve perché guardate ha addobbato tutto pure i pupazzi di neve ha messo la connellina quelle lì hawaiane no 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 ebbene ragazzi il video di oggi si può concludere qua che stai cercando Lola Lolo come si chiama ok e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao ciao che video lungo che ho fatto mamma mia lungissimo stavolta ciao Grazie a tutti.